Ogni giorno ragazzi si imparano un sacco di nuove cose su Fortnite come per esempio il fatto che non ci si nasconde a condotti confusi Ma soprattutto non state mai vicino i tronchi degli alberi e oggi scopriremo il motivazione I tronchetti natalizie Si e non nasconderti a condotti confusi e comunque ragazzi mi raccomando arriviamo a 10.000 mi piace Perché le cose che vedrete in questo video sono più stupide di Shane Ma soprattutto vi ricordo che se inserite il codice shiko in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia su Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop Noi reposteremo la storia e in più risponderemo i vostri messaggi tutti gli giorni Ok ragazzi vediamo una lista di cose da non fare La prima è fidarsi di Shane quando stai per morire e deve salvare Non è vero E vediamo c'è lui che ha la skin quella vecchissima con Spider-Man che strano Vero vero Eh ok questa forse non è una cosa da non fare però questa sono sicuro che lo è Comunque sono fortissime le ragnatele di Spider-Man Esatto stavo per dirgli una fidata assurda Esatto Oh ecco Ma cosa ma non ha preso danni la caduta Non ho capito neanch'io bro Ok lui invece è dentro Ah si Attenti ai tronchi ragazzi Comunque scrivetemi nei commenti a che livello siete nel capitolo 3 Io sono al 27 Ecco il motivo non stare mai vicino al tronco Cosa sta facendo No No non guarda No non si La sta leggendo con il biscotto Non si fanno queste cose Shane per favore Cosa un tronchi l'uomo biscotto? Si E lui è nascosto condotti confusi eccolo Beh bro questa roba ci faceva Si nasconde e muore Non fatelo Perché molto? Perché non si nasconde ci siano condotti Davvero? Cioè ti uccidono automaticamente? Si muori al 100 per 1000 Cos' Ma come ha fatto? Che hit bro Attenzione Belvid Con la mitragliettina Guarda che bella la stanza che ha E' molto verde La mia invece è rossa e nera Sì anche se sembra quasi anche ha fatto la scrivania da quanto non ci arriva Eh però riesce a fare cerchinate assurde mentre scivola E perché si mette in prospettiva PUM Oh mio dio Ma che cavolo è? Vabbè ma quest'arma lasera troppo bro E solo se hai una buona mira per questo tu non riesci a fare le kill Ma io lasero tantissimo Si laseri certo con laser per togliersi i peli Lui guarda la webcam e ne è morto Godo Sei come tu uguale ecco tu Come te Vero sei come tu E' come non ha perché non aveva il cappellino di Natalo Non ha preso il primo Ma il secondo l'ha preso Mamma mia sono proprio illegali ste cecchinate Si e tra l'altro con i nuovi cecchini non so come facciano raga Vi ho chiesto di allenarmi nei commenti l'altro giorno ma scrivetemi ancora il vostro nick perché ho bisogno d'aiuto Tu no shame perché tanto sei una cosa che non si può più aiutare Tu poi sei recuperabile Ma cosa Che figata Ma perché tutte ste tipe che nuotano con il sedere in vista Non lo so poi sono sempre le tipe bro non capisco E le skin femminile Come un po' nella vita reazione Nella vita della reazione che stiamo facendo volevi dire Lui era un ex pro player Lui è un po' sudato Oh è italiano Ma è italiano bro Hate Perché la foto di una ragazza Sono confuso non lo conosco Ciao hate Sei finito sotto la mappa Ma ti bannano bro o no Però è morto quindi non andate sotto la mappa E invece lui ha intrappolato un lama Comunque il lama fai un sacco di casino quando li uccisi Helicopter helicopter Bro lo conosci quel meme Si è strabello Paracopter Ok Ma che beltaplano è Ma Ma cosa Cosa ha beccato Nulla era in aria Guarda speeder girl Mamma mia Speeder girl Con questa skin i guanti sono proprio brutti Si Però questi trick no Ok Perché un sacco di maglie Non lo so ma è arrabbiatissimo No io sento che sia con Oh ma tutti Ma che cavolo è Ma cosa c'è lì nell'aria Perché tutti ci muoiono E perché si arrabbiano così tanto Oh no dal cespuglio Cioè ti fai spara Bro Bro ma Però non prendi danni in acqua eh Non prendere danni Ah ok ha fatto Vabbè almeno quello bro Ha fatto Ma anche lui Lui prende danni Questo è il tunnel E il fiume scusami che va sotto la montagna Dicono che ci sia qualcosa di nascosto dentro questo fiume bro Davvero? Sì E non è le tue skill su Fortnite Ma bro ma che cavolo è Ma perché tutti Come mai Forse solo perché ha 145 di ping Come me di solito Ma dai ma non è possibile bro E tu voli? No Ma allora non credo sia quello bro Ha fatto sploc E lui va dentro a un bagno C'è una persona è ovvio Altrimenti non c'è una persona No non c'è una persona C'è la morte Che è più simpatica di una persona Giusto Vai in bagno e anneghi E a me capita spesso quando devo fare tanta pipì dopo i viaggi lunghi Ma E poi muori E' un grandioso questo bro Ha anche aperto il bauletto del coso Non sapevo nemmeno se potesse Super bello Ha uno di vita lui invece Questa cosa non mi piace tantissimo Lui ci arrabbia tanto Hai uno scudino Meglio utilizzarlo Meglio utilizzarlo Bravo mia io ascolta Io e tu Ha fatto una kill bevendo uno scudino Croatomist Ma? Muore Muore Avevamo già visto una clip di un altro non italiano Però Ciao Croatomist Un saluto Lui è quello sudato È Kinstar Ah ma noi lo stiamo coprendo Abbiamo coperto tutti fino ad adesso Ok ora potete vedere che è sudato E lui invece dice Ciao E' un po' baggata sta roba Tra le paleoliche Oh ma Quanto è soddisfacente quando killi così con le mitragliette Oh mio dio E poi ha beccato il sedere della A me piace proprio che vedi il nemico davanti a te Il nemico è fermo e tu fai proprio PAP PAP E ti muore davanti Quanto è No a me piace quando scendono e li E li distruggi È troppo più bello rispetto al pompa Il pompa era soddisfacente ma adesso Le mitraglie ha ucciso col neppicore Bravo Attenzione questo è fortissimo Eh non tanto Perché la mitraglietta È scari Ho appena ruttato un pezzettino di Wuster Bro Che figo bro Passamelo L'hai preso bro No Questo usa palesemente la nostra tattica Si chiama Vero avrà visto il nostro video Shook Vediamo Sparkles Che puscia un nemico Che cosa fa? Tutti fluttuano Ok non sono solo le skin femminili Fluttuano anche gli uomini Anche Spiderman No minza godsco Ma è un vecchiettino Ma è un vecchiettino Ma che carino Cos'è successo? Ma perché ridi? Ma non ho capito Perché ridi? Natale mi piace Vai Buon Natale Sì ti piace ma non vedi neanche come il gioco Da quanto è grossa Hai potenzialmente ragione Ma questa informazione Non nasconde il fatto che Ha vinto Ha il nostro stesso cappellino Grande Grande Miralo Non ci credo Questo qua era andato palesemente in bagno Ma stava facendo la cacchina E gli hanno sparato in testa Come tu Che stai guardando questo video Stai facendola la cacca Lo so Non nasconderti Bomba Ok lui ha l'alberello di Natale E il babbo Natale Quindi farà una kill col cecchino A 230 metri Il nemico intendo Beh Quasi Lui ha trovato la barchettina Leggenda no Ma che Come fai con i pompa Di questa season Bisogna fareste clip Kill Plipl Bro l'ha palesemente beccato L'ha palesemente preso Ed è stata una ghostita Ma è successo ieri Quando stavo alla fine Sono arrivato secondo Solo grazie a questa cosa Non ha preso danni Ma a me non succede mai Di non prendere danni Adesso li ha presi Che non c'è Ti sta bene Ecco siete praticamente Ogni tanto devo dire Io le ho mai usate le ragnatele Ma cosi Le usate mille volte Davvero È perché non giochi abbastanza Si trovano vicino alle montagne Sui pezzi di ragnatele Sotto c'è il dispositivo Sono sempre occupato Sono già aperte sempre Ma cosa Gli tiri la picconata E si escono Le hanno usate tutti Anche quelli più nabbi Tipo Pecciuc Tipo Buga Deve essere molto triste Morire in questo modo bro Ma non come lui Guarda che bestia Guardalo Guarda come carico Guardalo Ha preso 50 di danno Solo stando 700 mila danni Da caduta Da safe Grande bro Non male come idea Come te Allora questo a livello di brain È forse messo meglio di Barry Marta italiana Marta cruzi Sembra un po' spaventata Ma io sono sopra di lei Ma perché devo essere sempre Sembra che non abbia un'idea No è spagnola Lui invece non ha tantissima mira Ma Lui invece è The Rock bro È The Rock da giovane Oh mio dio Ma anche di corporatura bro Perché si chiama Lukaku Little chicken La piccola gallina Ci sono un sacco di Che hit ha fatto assurda Le paleoliche mi piace un sacco Che ci siano Eh però devi riuscire a prenderle Che ecco È tipo lui non ne ha bisogno Guarda Prima hit di pompa Ha solo 8 colpi Di mitragliette Invece no Va bene Non ha fatto niente di speciale Però è per me Ha fatto una bella kill E adesso morirà Perché le sue granate Gli ritorneranno Come cavolo ha fatto Questa è stata Una bella kill È deciso Ma ha la tua età lui bro Oddio è mio figlio Siete uguali E niente ragazzi Il video termina qui Vi ringraziamo Per averlo visto Fino a questo momento E se l'avete visto Scrivete nei commenti Shane è Un Pisello Nino Peloso No E per ora Noi non possiamo far altro Che salutarvi Ringraziarvi Perché necomi Al prossimo video Shane saluta No Bello Ciao a tutti